12 e 13 maggio 2018 autodromo di modena ovviamente motor one days tantissime attività vi aspettano le trovate tutte su motor one days puntocom e ovviamente non possono mancare i track day con la vostra auto oppure gli o tra con le nostre però una volta che finisce l'adrenalina del giro in circuito vi potete anche rilassare provando delle novità di mercato con i nostri test drive stiamo mettendo a punto tre percorsi diversi fuori dall'autodromo e abbiamo raccolto tantissime novità di mercato che sicuramente vi possono interessare una delle più desiderate sarà sicuramente la mercedes classe a e poi ci sono la rinnovata peugeot 308 e la nuova seat ibiza senza dimenticare la sempre amatissima fiat 500c non possono ovviamente mancare i suv si va dalla seat tarona alla skoda kodiaq ma anche alla fiat 500x e poi le mazda cx3 e cx5 i nostri amici più attenti all'ambiente saranno invece curiosi di provare le elettrificate che porteremo ai motor one days a cominciare dalla kia niro da tutta la gamma ibrida toyota e poi dalla nuovissima nissan leaf anche i test drive come del resto l'ingresso per i motor one days 2018 è gratuito l'unica cosa che vi chiediamo è di iscrivervi su www.motoronedays.com in maniera tale che così riusciremo dandovi un braccialetto magico a limitare i tempi di attesa e allora vi ricordo 12 e 13 maggio autodromo di modena motor one days 2018 seguiteci sul sito e sulle nostre pagine social per tutti gli aggiornamenti